Buongiorno, Piero Pio Maria Adrioli, figlio spirituale di Padre Pio. Oggi è giovedì 25 gennaio 2024. Vedete, il 25 di gennaio per me è un giorno molto importante, un giorno che probabilmente mi ha cambiato la vita. 25 gennaio, una signora di mentone che aveva dei messaggi da parte di un angelo mi ha scritto nel momento, diciamo, di stand-by particolare della mia vita che non sapevo cosa dovevo fare e con questa lettera scritta con la penna rossa mi cambiò completamente la vita e mi indirizzò sulla strada che dovevo occupare. Il 25 gennaio è il compleanno anche della Rosa Berlusconi, mamma di Silvio, che poi è colei che mi ha trovato il lavoro e quindi mi ha aiutato nel cammino della mia vita e devo solo ringraziarla e pregare per lei oggi nel giorno del suo compleanno con riconoscenza eterna a lei e a suo figlio. Poi ognuno può pensarla come vuole, io parlo dell'uomo e non la politica, non mi ha mai interessato. Ecco, allora oggi vi volevo leggere una parte della lettera che mi fu recapitata da un amico che questa signora appunto di mentone scrisse per me molte pagine e siccome io non sapevo cosa volesse dire la scrittura automatica non è con la scrittura automatica ma sono proprio messaggi scritti con la penna rossa queste persone come mia mamma, come questa donna scrivevano magari 6, 7, 8 pagine nel giro di un minuto o mezzo minuto addirittura quindi capite bene che non può essere una cosa diabolica ma solo dettato dallo Spirito Santo poi leggerete le parole quindi capirete perché è sempre il cuore che dice se una cosa è dalla parte del bene o è una cosa dalla parte del male quindi non è che si fa molta fatica a capire si capisce perché le cose che vengono da Dio entrano nel cuore e si riescono a comprendere bene come il quaderno dell'amore che qualche d'uno purtroppo ha messo in dubbio ma se uno lo legge si renderà presto conto che l'uomo Luigi Gaspari figlio spirituale prediletto del Padre Pio che l'ha scritto era illuminato dallo Spirito Santo perché quelle non sono parole né del nemico e maligno né di una persona che non ha lo Spirito Santo ora vi voglio leggere questa lettera che ha veramente dell'incredibile perché l'ho ritrovata dopo 25 anni e io nella mia vita ho fatto esattamente quello che mi era stato scritto vedete domenica 25 gennaio 87 ciao Piero tu non mi conosci ma io sì e conosco anche i tuoi problemi sei un bravo ragazzo ed io vorrei che in quest'epoca di egoismo e di superbia ce ne fossero molti come te tu sei preoccupato perché non riesci a capire che cosa devi fare il tuo lavoro non ti piace le tue amicizie non ti piacciono vorresti ritrovare gli slanci di amore per Dio che provavi quando eri un innocente fanciullo ma il tempo passa si cresce e col crescere crescono e si trasformano anche i desideri ora sei un uomo e sempre più ti rendi conto di quanto sia difficile vivere nel mondo e restare puri e gioiosi la vita è una difficile scuola e la tua anima deve fare le sue esperienze vedere conoscere e capire una parte di te è attratta da ciò che la vita può offrirti vorresti un lavoro decoroso che soddisfi le tue ambizioni una compagna carina con la quale formare una famiglia e magari una situazione finanziaria che ti permette di vivere nella giatezza ma un'altra parte di te sente questa attrazione per la vita tranquilla ma un'altra parte di te sente un'attrazione per la vita tranquilla di chi rinunzia volontariamente a tutto questo per stare più vicino a Dio vedi Piero io non posso certo dirti quale delle due strade sia la migliore per te ma posso aiutarti a capire quale delle due sia più adatta a te io vedo che potresti essere un buon marito e un buon padre fare una vita semplice ma viverla con tanto amore perché è bello è bella la vita che Dio ci dà per servirlo in tanti modi diversi per esempio per aiutare le persone che ti sono care con il conforto che la tua presenza può dare loro nei momenti difficili e incoraggiando un amico ad andare verso una vita più sana più pulita potresti dare l'esempio ad altri di come ci si possa sentire felici e soddisfatti senza vivere come dei forsennati che vanno sempre alla ricerca di cose proibite e pericolose tante bellissime cose potresti fare senza ritirarti dal mondo sacrificando un poco del tempo per istruirti sul come diventare una luce per i tuoi fratelli meno fortunati che non possiedono la gioia di conoscere Dio e la sua bontà infinita per chi ama Dio con cuore sincero c'è tanto lavoro da fare nei suoi campi i suoi campi e dove si può incontrare gente che ha bisogno di un sorriso di una mano tesa di un conforto dove si può dare agli altri un po' di gioia un po' di serenità Dio ha bisogno di operai, Piero per lavorare nei suoi campi e non di persone che pensano a salvare soltanto la loro anima pensaci, Piero tu soltanto puoi decidere della tua vita l'uomo ha ricevuto dal suo creatore la facoltà di scegliere come seguirlo puoi servire passivamente pregando e ritirandoti dalla lotta quotidiana oppure attivamente buttandoti nella mischia con coraggio sorretto dalla fede ed essere una luce nel buio dell'ignoranza di molti ma per far questo dovrai essere guidato da una mano sicura e accettare di conoscere meglio il mondo dagli aiutatori invisibili e invisibili vedete questa lettera è stata scritta 25 gennaio del 1987 io nell'aprile del 1987 conobbi Luigi Gaspari ecco il mio mondo è quello di Padre Pio e di tantissime altre anime nobili che lavorano per il bene dell'umanità ognuno a suo modo e nella misura delle sue capacità vedete ognuno di noi lavora per la salvezza degli altri con le proprie capacità il conforto che la tua presenza può dare loro nei momenti difficili o incoraggiando un amico ad andare verso una vita più sana e pulita questo l'abbiamo già detto allora che ne pensi di tutto ciò ti tenta l'avventura io andai in chiesa guardai il crocifisso e gli chiesi e gli dissi decidi tu per me e mi sono ritrovato nella mischia e sono arrivato in questa avventura e dopo anni addirittura vedete mi sono messo a fare i video e chissà magari anche qualche conferenza che non saranno conferenze perché io da umile segretario d'azienda non laureato e non intellettuale come tanti parlo da persona semplice perché io sono una persona semplice ma puoi anche scegliere di rimanere come sei e di continuare a chiedere aiuto invece che tentare di darlo anche questo è possibile devi interrogare il tuo cuore e fare la tua scelta perché questo è è il momento devi scegliere ora è per questo motivo che sei tormentato dai dubbi e incertezze la tua anima sa che devi scegliere una di queste strade in ognuna di esse puoi fare in modo che il Signore cammini al tuo fianco e porti ovunque e porti ovunque passa insieme a te pace amore gioia conoscenza tu hai detto di non sapere che cosa vogliamo da te vorrei aiutarti a capirlo tu devi cercare di uscire dalle limitazioni della tua mente condizionata da un sistema religioso creato per conoscere e cercare Dio tu lo conosci e lo cerchi ma questo non basta non ti devi fermare ai piedi della collina devi cercare di salire per vedere com'è la valle dalla quale vieni devi salire di modo che tu possa vedere dall'alto vedere meglio di più e più lontano sempre più lontano tu devi uscire dalla mentalità del chiedere ora devi entrare in un altro modo di vedere le cose non più chiedere per te e per i tuoi beni materiali e aiuti vari non chiedete ai morti di aiutarvi per cose che non sono più così importanti o perlomeno importanti al punto da richiamare l'attenzione di questi esseri che vivono altrove e che hanno un altro lavoro da fare un lavoro importante per l'anima sappiate che Dio vi concede protezione ed aiuto nella misura che vi è necessaria e che vi dà tutto quello che dovete avere perché sia utile alla progressione della vostra anima verso la conoscenza nota bene che ho detto tutto quello che sarà utile cioè il necessario non vi aspettate quindi che soddisfi tutte le vostre richieste poiché lui soltanto può sapere quali sono le cose che potranno esservi di aiuto e quali quelle che a voi possono sembrare necessarie e magari anche indispensabili mentre non lo sono affatto e che possono procurarvi più guai che vantaggi questo non vuol dire che non dovete più pregarne ma che dovete cambiare il vostro modo di pregare chiedete al Signore quello che desiderate ma aggiungete sempre alla vostra richiesta una frase di questo tipo concedici al Signore quanto ti chiediamo solo se questo è conforme ai tuoi voleri e che sia fatta la tua volontà vedete perché sappiamo che quello che tu vuoi per noi altro non può essere che per il nostro bene pregando in questo modo tutti i dubbi e le paure svaniranno tutte le preoccupazioni diventeranno inutili perché pregando in questo modo la vostra fede si fortificherà e capirete che una sofferenza o una malattia saranno soltanto prove momentane questa spiegazione dovrebbe farti capire le cose per le quali ti preoccupi in questo momento si sistemeranno quando sarà il momento giusto certo posso capire quello che ti succede possa lasciarti un po' dubbioso e magari un po' spaventato stai attraversando una crisi spirituale alla quale si aggiungono incertezze per il lavoro timori vari per la salute e l'integrità fisica diminuzione di interesse per le cose della vita materiale discoteca ragazza eccetera ma non devi temere Dio è sempre vicino ai suoi figli basterà ricordarsi questo per sentirsi più sicuri vedete io ho letto parte di questa lettera che poi ritrovandola dopo 25 anni mi commossi perché appunto questa lettera aveva previsto tutto quello che io poi avrei fatto e che sto facendo adesso vi voglio far vedere un bigliettino che mi mandò mamma rosa Berlusconi quando io gli mandai i fiori e dopo tanti mesi che non la sentivo perché avevo fatto avere una lettera a suo figlio dove gli dicevo che lui doveva essere riconoscente al quaderno dell'amore purtroppo soprattutto per causa di malinformati che lo hanno consigliato male probabilmente tutto ciò non è stato fatto vedete io gli avevo scritto una lettera dopo che lui aveva avuto una grazia grazie al quaderno e lei nelle elezioni regionali adesso non mi ricordo forse del 99 se non mi sbaglio girò l'Italia con la nave con la sua barca il suo panfilo la sua nave e girò l'Italia appunto in tutti i porti per le elezioni appunto regionali e portò con sé sua madre e sua madre gliela lesse sul battello sul panfilo bene io in quella lettera gli scrivessi che se lui non fosse stato come dire non avesse dopo le grazie che aveva avuto non fosse stato riconoscente al quaderno dell'amore io non avrei mai più telefonato a sua mamma anche se avrei continuato a pregare per loro e in tutta la mia vita ma successa una cosa particolare nel mese di maggio portai delle rose feci avere delle rose mamma Berlusconi a casa sua con chiaramente con un biglietto e dopo qualche giorno mi arrivò un biglietto suo che mi commosse tantissimo perché guardate cosa ha scritto riprendo gli occhiali vedete rosella Bossi Berlusconi 15 5 2000 caro signor Drioli ho ricevuto il suo biglietto e i suoi fiori che ho molto gradito la ringrazio e le invio i miei più cordiali saluti mamma rosa come io come se io fossi suo figlio la cosa mi commosse talmente tanto che ripresi a telefonare a mamma rosa mi raccontò una storia che nel periodo che io non gli telefonavo più non ci sentivamo più era caduta nella villa di Maccherio perché era mancata la luce e purtroppo non poteva più camminare i medici quello gli avevano detto ma vedete il signore è grande e praticamente il dottor Tavana che era anche il medico del Milan tutte le mattine andava da lei a fargli fare fisioterapia beh questa donna si è rimessa in piedi mi ha invitato più volte a casa sua e praticamente aveva ripreso normalmente la sua vita pur avendo già un'età molto avanzata ecco con questo appunto volevo ringraziare anche mamma rosa per tutto quello che ha fatto per me e anche suo figlio Silvio mi spiace solo che appunto per colpa di malinformati non sia riuscito a far conoscere il quaderno dell'amore il quaderno dell'amore nel mondo anche se un suo cugino sacerdote mi ha detto che lui teneva sul comodino i collibri vicino però io non ne ho una certezza perché appunto questo è un per sentito dire e quindi non posso dirlo con certezza comunque volevo leggermi due righe del quaderno vedete quando si su quello che il signore vuole da noi o su quello come il quaderno dell'amore se le parole sono di Dio o non sono di Dio basta parlare al nostro cuore è il nostro cuore che parla vedete la chiave è il mio cuore che si fa vostro ogni volta che mi chiedete di aprire la porta chiuse di un cuore io entrerò insieme a voi perché se entrassi io solo non creerei il legame tra voi ognuno di voi sarebbe legato a me solamente invece io voglio legare tutti fra di voi in me attraverso me questa è la ragione per cui ho sempre scelto e scelgo uno di voi al quale mi sono donato e mi dono per entrare in tutti la scelta fu fatta da me sul leno della croce durante la mia agonia fu allora che il Padre mi concesse di scegliere fra voi tutti i più idoni ad esprimervi a portarvi la conoscenza di me di tutto quanto io ho tenuto dal Padre in vostro favore di tutto quanto voi potete per mio mezzo vedete leggendo questa frase io ho scelto sul legno della croce i più idoni a portare l'amore del mondo ora mi viene in mente un sogno nel dormiveglia che feci ho visto Gesù sulla croce e scendeva da quella croce e si è messo a parlare non capivo nulla è passato a fianco a me e sinceramente io devo dire quello che ho visto lui era non dico scuro ma leggermente più come se fosse quasi abbronzato non abbronzato ma è il colore della pelle un po' più scuro di quello che ci raccontano anche se vogliamo le scritture cioè non era biondo ma io vi dico così come vi non voglio giudicare vi racconto solo il mio sogno era era moro e è passato vicino a me e parlava ma io non capivo nulla una persona che era lì vicino gli ho detto ma cosa sta dicendo sta parlando in aramaico bene voi sapete tutti che l'aramaico era proprio la lingua di Gesù sinceramente nella mia vita io non ho mai pensato all'aramaico sì quando a messa nelle cose si parlava dell'aramaico nella Bibbia questo sì però sapete benissimo che quando uno ha 40-50 anni dell'aramaico proprio non ci pensa più eppure nel sogno sta parlando in aramaico quindi io ho solo descritto quello che ho visto in quel sogno ecco bene adesso voglio leggervi dal profeta dell'era dell'amore di Luigi Gaspari il problema serio dell'orgoglio umano che è quello che praticamente rovina tutto e vedete dove ci porta l'orgoglio umano vi leggo questo l'orgoglio degli uomini pretende di essere servito l'umiltà dell'uomo Dio Cristo Re e dei Suoi Santi vuole servire gli uomini vedete Dio non serve l'uomo che comanda ma serve l'uomo che serve l'orgoglio prepara la guerra l'umiltà porta in dono la pace l'orgogliosa Dea Ragione innalzata a Parigi poi umiliata nel congresso di Vienna dopo circa cento anni si è spostata a Oriente d'Europa per innalzare il suo nuovo trono materialista e negatore dei diritti di Dio e dell'uomo vediamo la scienza artificiale vediamo ormai questa Europa materialista che ha abbandonato Gesù e Dio dove ci sta portando come potrà l'uomo di oggi liberarsi dal fascino seducente di quella Dea Ragione che materialmente si è fatta un trono tanto potente la Dea orgogliosa e schiavizzante bene sa che dovrà fare i conti prima o poi col vero uomo e vero Dio la Dea Ragione non ha ragione di dubitare che il suo trono vacillerà e cadrà appena l'umanità capirà che il vero trono da innalzare per la sua felicità è l'umiltà l'umiltà regnante nelle menti e nei cuori dell'umanità farà nascere l'uomo nuovo il bambino che è la vera pace di Dio con gli uomini capace di abbattere per sempre il malefico trono della orgogliosa Dea Ragione lasciate che i fanciulli vengano a me e non glielo impedite perché il regno di Dio è per quelli che assomigliano a loro in verità vi dico chiunque non riceverà il regno di Dio come un fanciullo non vi entrerà vano è per gli uomini cercare di scoprire nelle varie culture nuove verità che possano mettere in pace ed accordo le ragioni degli uomini vedete se non torniamo come i bambini possiamo salvare perché i bambini sono innocenti mentre noi pensiamo alla Dea Ragione lo scientificismo la scienza come è che si dice la scienza artificiale lì che vabbè avete capito tutto quello che ci vogliono imporre quello è schiavismo il Signore non permetterà e quindi ecco perché il segno dei tempi ci dicono che siamo arrivati vedete la guerra purtroppo si sta espandendo e noi possiamo solo affidarci al Signore perché ci salve e ci protegge bene adesso naturalmente vi ricordo il mio libro vi ricordo il mio libro Padre Pio il terzo segreto di Fatima troverete di Piero Drioli a Daniele Gallo e Luca e Serafini edizione il segno lo potete richiedere su Amazzo oppure nelle librerie e qui è stato scritto la biografia del dottor Gaspari le pagine del Dondolindo Ruotel dove parlano di questo libricino misterioso che deve tornare dopo appunto tanti ostacoli soprattutto da parte della Chiesa deve ritornare riportato da un angelo proprio nelle mani della Chiesa perché ridiventi cibo suo ecco come si salverà la Chiesa grazie a questo libricino che Dondolindo Ruotelo diceva tanto piccolo nella forma ma grande nella sostanza perché sarà porterà il rinnovamento della Chiesa e la illuminerà come non mai bene allora vi dico subito che per richiedere i quaderni dell'amore del dottor Luigi Gaspari padre Pio profeta dell'era dell'amore tutte le opere del Gaspari richiedete anche le sue conferenze perché se ascoltate le sue conferenze vi renderete conto che quell'uomo purtroppo è stato attaccato anche da una parte e continua ad essere attaccato da una parte della Chiesa per colpa dei malinformati voi sapete che i malinformati purtroppo prendete ad esempio un giudice che giudica una persona e lo manda in galera gli fanno il processo e questa persona viene assolta perché il fatto non sussiste ma quando è stato ormai proclamato che lui era colpevole con tutti i giornali questa persona non potrà mai tornare a essere pulita per colpa di chi dei malinformati o per persone che giudicano male perché il malinformato giudica e purtroppo quello che viene informato male poi giudica ancora di più ecco la colpa ecco perché padre Piero era molto arrabbiato con quelli che giudicava i malinformati e quelli in malafede chiaramente ecco allora quindi voi sapete purtroppo che Luigi Gasperi per colpa di qualche malinformato che addirittura mise in dubbio che lui avesse conosciuto padre Pio ma fosse stato fortunato perché avesse fatto quelle due foto con padre Pio e che gli dava una lettera e con padre Pio del dietro bene pensate che nel 1959 i frati e padre Pio lo mandano a Roma soprattutto padre Pio lo manda a Roma per discutere i lavori sulla viabilità c'è il documento di questo sulla viabilità di San Giovanni Rotondo e del intorno al convento ebbene chiaramente il ministero poi la cassa del mezzogiorno non scrive a San Giovanni Rotondo ma scrive a lui a Bologna al dottor Luigi Gasperi dove gli dice che i lavori sono stati accettati e quindi si faranno non solo poi c'è la dedica originale di Don Dolindo Ruotolo che ha appunto fatto una dedica a Luigi Gasperi dove gli dice che lo Spirito Santo lo avrebbe illuminato ecco quindi adesso vi do il numero di telefono dove manderete un whatsapp a questo numero per la richiesta dei quaderni non del mio libro perché il mio libro lo trovate è una cosa distaccata lo trovate in libreria oppure su Amazon lo potete richiedere voi perché io sono un testimone di questo sto parlando da testimone e quindi come ringraziamento a padre Pio e a Luigi Gasperi voi mandate un whatsapp scritto non parlato perché non vi risponde nessuno al 371 39 56034 mi sarà spedito il quaderno o i libri che voi richiedete dal comitato Archivio Gasperi vi sarà spedito a casa con un bollettino postale e voi farete un'offerta libera che servirà appunto per la ristampa dei quaderni in tutte le lingue perché è stato pubblicato in tutte le lingue ecco adesso sono stato anche fin troppo lungo vi ringrazio padre Pio ci benedica Luigi Gasperi con lui e la Madonna ci protegga insieme a San Michele e il nostro Signore Gesù un abbraccio a tutti a presto